Torna dal 24 al 26 giugno la festa della birra a Sant'Onofrio di Campli. Quali saranno gli appuntamenti? Dal 24 al 26 i stand gastronomici con salsicce, panini alla porchetta, patatine fritte e arrosticini. In più ci saranno tre stand di birre, di cui uno birre tradizionali, nazionali, internazionali e due di birre artigianali che sono dei birrifici locali. Uno è di Battaglia di Campli, birrificio Ramoni e l'altro è di Civitella, birrificio La Fortezza, che saranno presenti alla manifestazione. La domenica ci sarà proprio un convegno sulle birre artigianali che sarà tenuto da questi produttori, quindi spiegheranno come si realizza la birra, quindi i vari componenti, tutta la procedura. Sant'Onofrio è il tessuto sociale e economico più vivo del comune di Campli. Infatti tutte le sere, anche senza eventi, è pieno di gente, proprio perché ha una posizione geografica favorevole. A 10 minuti da terra, a Piano Daccio sono 10 minuti, a 15 minuti dal mare, ha un tiro di schioppo da tutti i comuni, dalla Val Vibrata, a Bellante, eccetera. Quindi noi crediamo che questa manifestazione sia molto importante, apre tutti gli eventi estivi e credo, sono sicura, che avrà lo stesso successo di Aperi Post della settimana scorsa.